Una prima battuta subito da Sergio Cofferati, c'è questa voglia, il governo deve fare i conti con i diversi presidenti di regione ma anche e soprattutto con le tantissime categorie, penso appunto ai ristoratori, ai parrucchieri, ai negozianti, ai commercianti, ai piccoli imprenditori che in quel programma che ci ha raccontato e illustrato il presidente Conte, teoricamente hanno ancora un mese prima di poter riprendere ammesso che possano riprendere, Cofferati? La situazione a me pare inquietante, ci sono atteggiamenti di irresponsabilità che non dovrebbero essere presenti nella vita politica e economica mai oggi ci sono e condizionano enormemente anche i comportamenti delle persone si continua a parlare con grande insistenza della ripartenza salvo poi non discutere minimamente del come ripartire tutti vorrebbero ripartire, tutti vorremmo tornare ad una condizione di normalità ma siamo nel mezzo di una bufera che non ha precedenti e la ripresa non potrà essere quella di ritornare esattamente alle condizioni di prima ma non ci saranno più, ma ci sono cose elementari che vengono accantonate e poi c'è questo atteggiamento dove l'interesse politico di breve periodo cancella le ragioni di un intero paese e il presidente della Repubblica ha detto che i provvedimenti emanati dal governo sono stati emanati nel rispetto della Costituzione lo ha detto Mattarella ora io penso che sia importante in ogni caso poi coinvolgere le persone avere un consenso largo per cui credo che sia giusto aggiungere ai DPCM anche altri provvedimenti che transitano dai percorsi normali della democrazia compreso il Parlamento però non si può sentire, quello che ci avete fatto sentire qualche minuto fa ma forze politiche che sono parte integrante del governo parte integrante del governo che si lamentano di quello che il governo fa decidano loro vogliono dire a Conte che non bisogna più procedere con i soldi di PCM lo possono fare quando vogliono se lo fanno in Parlamento e solo in Parlamento è demagogia è utilizzo strumentale di una condizione di oggettiva difficoltà che può essere risolta poi guardate che il lavoro di dopo non sarà più quello di prima aspetti, aspetti, sul lavoro di dopo ci arriviamo